Qualche giorno fa ho fatto un piccolo esperimento sul web, ho provato a usare i social non per asserire una mia convinzione e non per affermare una mia tesi, ma per chiedere a chi ne sa più di me. Le persone interpellate in questo caso erano gli psicologi dell'infanzia, i pedagogisti e la questione che ho posto era questa, cioè se esistesse all'interno della psicologia una corrente di pensiero, una tesi, secondo la quale sarebbe diseducativo, sarebbe da dannoso per lo sviluppo del bambino, giocare con le armi giocattolo, ricordavo che quando ero bambino io negli anni 80 sia all'asilo che alle scuole elementari mi era stato tassativamente proibito di usare, di introdurre a scuola delle armi giocattolo, di usare per gioco le armi giocattolo, mi ero detto ci sarà un motivo, ci sarà stato uno studio, ci sarà stato un movimento dietro, chissà adesso come stanno le cose, se questa tesi è contrastata da una tesi contraria, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ho ricevuto un sacco di risposte interessanti, veramente, veramente, lo ripeterò questo genere di esperimento, cioè farò altre domande perché mi dà veramente tantissima soddisfazione. Allora, le tante risposte provo a sintetizzarle e vi racconto qui quello che ho capito dalle risposte ricevute. Dunque, sì, sì, non è un caso, sì, come pensavo, probabilmente le mie insegnanti non se ne erano inventato così di sana pianta, non era un loro capriccio questa cosa di non farmi giocare con gli armi giocattolo. Dunque, in Italia si è prodotta una situazione particolarissima nel dopoguerra perché il fascismo aveva, come dire, militarizzato i bambini e li aveva non solo incoraggiati a giocare con le armi giocattolo ma imposto di imparare a usare le armi vere. C'era un famoso slogan durante l'epoca fascista, libro e moschetto fascista perfetto. E quindi anche l'immaginario dei bambini era stato, come dire, militarizzato, no? Insomma, il bambino deve uccidere, deve sparare, deve conquistare, eccetera, eccetera, eccetera. Per reazione a tutto ciò, nell'immediato dopoguerra, sono nati dei movimenti che hanno contrastato il gioco violento, il gioco con armi simulate, il gioco con simulazione di combattimento, eccetera. C'è stata proprio una campagna che prendeva il nome di disarmo del giocattolo. Questa cosa è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta finché nel 1952 in Parlamento è addirittura arrivata una proposta di legge. Una proposta di legge scritta dalla parlamentare di allora tale Mary Tibal di Chiesa, una parlamentare repubblicana, che proponeva appunto di abolire e di vietare la costruzione, la vendita, l'importazione, l'esportazione di armi giocattolo. Ok, ok. Quindi sì, è successo qualcosa di preciso, ci sono dei nomi, ci sono delle date, ma attenzione, la cosa è ancora più interessante e più bella di così. Su questo substrato molto particolare dell'Italia si innestano però due fatti. due studi dei primi anni 60 che hanno avuto una fama internazionale e quindi io immagino anche fra i pedagogisti, fra gli psicologi italiani qualche traccia l'avranno lasciata. Allora, il primo di questi studi è del 1961 ed è lo studio di Albert Bandura legato a un esperimento che lui fece, l'esperimento cosiddetto della bambola bobo. In cosa consiste questo esperimento? Provo a raccontarvelo, a sintetizzarvelo. È un esperimento fatto con una centinaia di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Funzionava così, il bambino veniva da solo introdotto in una stanza con diversi giochi, alcuni neutri, diciamo così, alcuni violenti, cioè alcuni giocattoli, scusate. Quindi c'erano, non so, delle costruzioni, c'erano dei modellini di automobile, c'era un martello giocattolo, una pistola giocattolo, eccetera. C'era appesa un filo, una palla con un viso disegnato, occhi, naso e bocca, e c'era soprattutto dentro la stanza, la bambola bobo. Bobo era proprio il nome commerciale di questa bambola, che era semplicemente un gonfiabile, con un peso alla base, in modo da farlo stare sempre in piedi, sempre a rito, quindi tu davi una spinta, lui andava indietro e poi ritornava in piedi, e portava stampata l'immagine di un clown. Ok, bene. I bambini che venivano introdotto tutti potevano trovare due situazioni diverse. In un primo caso c'era un adulto che giocava, gli faceva delle cose, giocava con le costruzioni, ma ignorava la bambola bobo. In un secondo caso invece c'era un adulto che quasi subito cominciava a interagire in modo violento con la bambola bobo, con la bambola bobo, quindi cominciava a dare dei pugni, prendeva il mazzetto, il martello, cominciava a dare delle martellate, pigliava a calci la bambola, la prendeva, la tirava in aria e poi ci andava sopra, la stendeva, ci andava sopra, cominciava a picchiarla, picchiala sul naso, picchiala sul naso, picchiala sul naso, diceva. In alcuni casi successivamente questo adulto veniva punito per la sua violenza, ma in altri casi sotto gli occhi del bambino questo adulto veniva premiato per il suo comportamento. Ok? Dopodiché i bambini venivano fatti uscire, introdotti in un'altra stanza dove c'erano dei giochi, gli si diceva di giocare liberamente, ma dopo qualche minuto i giochi venivano sottratti al bambino dicendogli che servivano a un altro bambino, quindi si creava nel bambino, immagino, un momento di nervosismo diciamo, bene, il bambino veniva reintrodotto nella prima stanza, quella con Bobo, stavolta da solo, senza la presenza di un adulto. Cosa si è riscontrato? Cosa ha osservato Bandura? Che i bambini che avevano visto, che avevano assistito alla violenza, al comportamento violento, avevano una spiccata tendenza, una tendenza molto maggiore rispetto agli altri, a avere comportamenti aggressivi con la bambola Bobo, quindi cominciavano anche loro a picchiarla, a calciarla, prendevano la pistola e giocavano con la pistola, cosa che non era stata fatta dall'adulto, e usavano una violenza verbale anche, sempre verso la bambola. Ok, qual è allora la tesi di Bandura? Intanto noi non apprendiamo, come si sosteneva allora, solo in base al premio alla punizione, perché, ecco, questo è interessante, non l'ho detto, la violenza veniva fatta prevalentemente da coloro che avevano assistito alla violenza, era molto più spiccata nei maschi che nelle femmine, ma, dato interessante, spiazzante, era in tutto ciò del tutto irrilevante, del tutto irrilevante, che l'adulto violento fosse stato punito o premiato. Questa cosa qui proprio non spostava ad una virgola il comportamento. Questo è interessante, no? Questo è interessante perché uno potrebbe pensare che se faccio vedere al bambino un comportamento negativo che viene punito, poi lo disincentivo. Non è così semplice, potrei incentivarlo, capite? Non è così semplice, quindi dice Bandura, noi non apprendiamo soltanto in base al meccanismo della punizione o del premio, ma anche per imitazione, quindi c'è un apprendimento sociale con cui bisogna fare i conti di cui bisogna essere consapevoli e, insomma, bisogna stare attenti a questa cosa. E dice una cosa, in un'intervista, dice una cosa interessante e spiazzante Bandura, dice, una cosa che mi ha sorpreso, dice, fino ad allora era diffusa la convinzione che la visione della violenza inibisse l'aggressività. Vedi una cosa violenta, diventi meno aggressivo. Strano, 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 ma in realtà, se ci penso bene, mi sembra un pensiero che ha radici molto, 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 molto antiche, molto profonde, perché è in sintesi la tesi di Aristotele nella poetica. Cioè, Aristotele nella poetica sostiene che la visione della tragedia, la tragedia greca, quindi storie molto violente, molto sanguinose, in realtà sia benefica per l'uomo, perché lo eleva, lo purifica. Cioè, è come se il desiderio di violenza, la sete di sangue, si placasse, venisse sublimata in quella visione, quindi c'è una catarsi, una purificazione. Bene. Bene. Questa è la tesi di Bandura, che però, voi capite, non tocca nello specifico il discorso delle armi a giocattolo. Si parla di violenza, si parla di imitazione, in modo generico. Però, quando si tratta il tema della violenza del bambino, eccetera, allo studio di Bandura viene spesso associato un altro studio che ha avuto varie rivisitazioni, ma è cominciato immediatamente dopo l'esperimento di Bandura, nel 1962, questa volta si tratta di uno psicologo che si chiama Leonard Berkowitz, e Leonard Berkowitz sostiene che la presenza di un'arma in un ambiente, che sia reale l'arma o che sia presente solo in immagine, quindi un'arma a giocattolo, ma anche solo l'immagine di un'arma, ecco, aumenta l'aggressività nelle persone che si trovano in quell'ambiente. Cioè, l'arma fornisce, questo è il termine usato da Berkowitz, un cue, un aggancio, un innesco all'aggressività. E, per sintetizzare tutto ciò, c'è un termine che lui usa, parla di Weapons Effect, Weapons Effect, cioè effetto delle armi. Quindi, ecco, queste sono le fonti che hanno determinato probabilmente una certa idiosincrasia di alcuni insegnanti per l'utilizzo dell'armi giocattolo. A quanto ho capito, questa cosa è andata avanti fino agli anni 90, è stata abbastanza dominante fino agli anni 90, ma a questa corrente di pensiero, a questo modo di vedere le cose, si contrappone un'altra tesi, un'altra visione, che è la seguente. Cioè, che l'aggressività, la violenza, siano insite nell'uomo, nell'essere umano, incoercibili, ineliminabili, e che sia sano, sia produttivo, trovare il modo invece non di reprimerle, non di schiacciarle, ma di canalizzarle, di trovare il modo di sfogarle pacificamente, di elaborarle, di sublimarle, tramite cosa? Tramite il gioco, tramite la finzione, tramite la rappresentazione teatrale, tramite la finzione e la sostituzione in qualsiasi forma. Ok, quindi in questo caso, il giocare con le armi giocattolo, il giocare alla guerra, il far finta di uccidere, il far finta di morire, eccetera, eccetera, non solo, secondo costoro, non sarebbe negativo, ma addirittura avrebbe un effetto positivo. Ecco, ecco, questo è quanto so, a quanto so, se ho capito bene, quest'ultima tesi sta per prendere il sopravvento, ha preso il sopravvento, comunque la questione non ha, insomma, un'opinione unanimemente, unanimemente condivisa. Va bene, questa è la cosa, io vi ringrazio, io ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto e mi hanno dato modo di comporre questa risposta, ma c'è un altro elemento in tutto ciò, c'è un altro elemento in tutto ciò, perché? Io avevo detto appunto nel video, per favore, facciamo rispondere gli esperti, facciamo rispondere i psicologi, i pedagogisti, le persone che si intendono di ciò, non mettete la vostra opinione giusto così, per dirla vostra, questa non è una raccolta di opinioni, non è un dibattito, non è un sondaggio, è proprio una domanda specifica che io ho fatto, faccio a certe figure specifiche, va bene, ok, sono arrivati, sono arrivate solo su YouTube, poi il video l'ho messo anche su Facebook, oltre 550 risposte, oltre 550 risposte, ovviamente la schiacciante maggioranza delle risposte erano del tipo, io non sono uno psicologo, ma io non sono un pedagogista, ma parlando da profano, secondo me, eccetera, vi confesso, vi confesso molto candidamente, con grande trasparenza, che sulle prime questa cosa, questo fenomeno, mi ha fatto venire in mente un modo di dire tipico delle mie parti, cioè della Romagna, cioè l'ecmediputena malavoipa, è come inveire all'indirizzo della volpe, mi spiegano, immaginate la Romagna, un ambiente rurale, di economia contadina, il contadino ha i polli, ha le galline, la volpe è il suo più acerrimo nemico perché notte e tempo, col favore delle tenebre, si intrufola nel pollaio e mangia le galline, l'indomani il contadino vede il disastro fatto dalla volpe e inveisce al suo indirizzo, la volpe dal canto suo, anche se è presa a male parole, è del tutto indifferente a tutto ciò, non sente neanche la voce del contadino, ormai lei è lontana, sazia e lontana, quindi è un modo di dire l'ecmediputena malavoipa è come parlare al muro, solo che parlare al muro e nessuno parla al muro, è un'immagine efficace ma artificiosa, invece maledire a male parole insomma prendere a male parole la volpe è una cosa che si faceva, va bene, quindi all'inizio ho pensato così, all'inizio ho pensato così, poi vi devo dire la verità, mi sono ricreduto, mi sono ricreduto perché le moltissime risposte date da persone non specialiste in realtà mi hanno dato un'altra visione diversa, non del tipo che mi aspettavo, completamente diversa ma che secondo me non è del tutto peregrina, secondo me merita attenzione, la risposta di costoro è molto semplice e da un certo punto di vista può apparire desolatamente semplice ed è questa, no mercadini no, non hai capito niente, non c'entra nulla la psicologia, non c'entrano nulla i pedagogisti, non c'entra nulla la scienza e i suoi studi, è un fatto pratico, in quel caso l'insegnante non si comporta da educatore, si comporta da tutore, non si comporta da pedagogo, si comporta da persona che ha in consegna i figli di altri e ha il preciso compito di fare in modo che costoro stiano con lui un certo numero di ore senza avere danni né fisici né mentali, il tutore tuttora i bambini, tutelando i bambini tutela anche se stesso perché se i bambini si fanno male poi i genitori lo denunciano, si lamentano col preside, lui rischia di licenziamento, passa dei guai, allora per evitare qualsiasi problema, toglie le armi, toglie le armi perché pensa che se tu dai delle spade giocatola ai bambini loro all'inizio possono anche giocare fantasmando di uccidere il drago immaginario eccetera, poi arriva il punto che i due magari più vaneschi provano a tirare di scherma fra di loro e non ci vuole niente che una spada di plastica finisca nell'occhio di un bambino di carne e ossa e la punta di un oggetto di plastica se ti finisce nell'occhio fa male, anche se la spada è finta ed è di plastica, quindi si taglia il problema, allora dice vietato portare armi, vietato portare armi, alcuni allora hanno risposto a questa risposta che era assurdo pensare a tutto ciò perché uno può far male a un bambino anche con una matita puntita, con quella ipotrafiggere il bulbo oculare, ma altri hanno risposto che in ragionamento loro non stava in piedi perché? Perché la questione da prendere in esame è se l'utilizzo dell'oggetto sia proprio o improprio, cioè se due bambini ci fanno male giocando con delle armi di plastica e il genitore si può arrabbiare e dice ma come? Fate giocare i bambini con delle armi di plastica che sono pericolosissime? E cosa devono fare i bambini con delle armi di plastica? Giocare a combattere e poi ci sono fatti male, colpa vostra. Se invece un bambino in pastisce prende una matita e trafigge un altro bambino, il genitore non può dire non dovete permettere ai bambini di usare le matite. Le matite sono giuste come oggetto e il bambino gli ha fatto un oggetto che ne ha fatto un uso improprio, ok? Tu una volta che hai imposto che le forbici avessero le punte arrotondate, che non si potessero portare taglierini, compassi, eccetera, diciamo così sei a posto, ok? Sei a posto. Ecco, ecco. Può sembrare tutto desolatamente semplice però, però, credo che questa possa essere una delle concause, cioè è bello parlare di scienza, è bello parlare di psicologia, di Bandura, di Berkowitz, di Aristotele, addirittura io ho tirato fuori Aristotele, però poi, a lato pratico, nella scuolina qui di Sala di Cesenatico, può darsi che questi motivi molto spiccioli avessero il loro peso, come e più che questi studi. Quindi, quindi, io mi sono ricreduto anche sul fatto di chiedere alle persone di non rispondere se non fossero competenti, eccetera. Io mi sto convincendo di una cosa, di una cosa che è il fatto di mettere un materiale, un piccolo discorso in rete e ricevere centinaia, non decine, centinaia di risposte, di interazioni, sentire centinaia di voci, vedere centinaia di punti di vista diversi, beh è una grandissima fortuna. è una fortuna veramente incredibile, ma su questo farò un video, di questo parlerò più diffusamente con un video. E volevo solo, prima di chiudere, fare una parentesi, perché fra le varie persone che hanno risposto, pur diciamo così non essendo nel novero delle persone che dovevano rispondere, c'è stata la risposta di uno che si è proprio offeso, ho detto, ma come? Io non me l'aspettavo questa cosa qui da te Mercadini, mi hai un po' diruso. Cosa vuol dire? Allora, cosa vuol dire che devono parlare solo gli psicologi? Allora, se uno non ha avuto una cultura sui libri, non ha il diritto di pensiero e di parola? Ha detto costui. Ma no, ma no, cioè non voleva essere una cosa discriminatoria, cioè io avevo bisogno di un'informazione precisa e ho chiesto a coloro che quell'affermazione, quel saperlo detengono, cioè vogliono sapere come stanno le cose all'interno della psicologia, ho chiesto ai psicologi. Ovviamente chiunque ha diritto di pensiero, di parola, di professare la sua fede religiosa, di libertà, a tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, ci mancherebbe. Semplicemente uno chiede alla persona, cioè se tu vai al ristorante e vuoi informazioni sui piatti del menù, chiedi al cameriere, scusi, si può avere questo qui però senza crema agli asparagi? C'è quello magari di fianco a te, sì, sì, si può avere, ma beh, sentiamo, e magari il cameriere ti dice, eh, purtroppo no, purtroppo no perché la crema agli asparagi è in un composto che viene preparato il giorno prima dallo chef, ah, vabbè, prendo un'altra cosa, vedi, ecco, non è che uno pensa che quelli che non sono i camerieri siano la feccia, semplicemente a quella domanda deve rispondere quella persona che è competente. Comunque, va bene, rispondete tutti, rispondete tutti che io trago un grande arricchimento, mi sono ricreduto, io trago un grande arricchimento. Basta, vi saluto, questi sono i video che faccio così estemporaneamente, pazzamente, anarchoidamente, sotto trovate il link, trovate per entrare nel mio Patreon, se volete avere una frequentazione con me ancora più ravvicinata e quindi ancora più pericolosa, io ve lo sconsiglio, no, ve lo sconsiglio, vedete voi, vedete voi, però vi lascio soprattutto nei commenti diverse fonti che mi sono state passate, fonti molto, molto, molto interessanti. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao!